Gormiti Senza limiti Gormiti Raggiungibili Chi mi fermerà? The land is back Legend is back Gormiti Gormiti Il cubo cosmico Questa roba cosmica è favolosa Sì, sì Il cosmo, lo spazio profondo Ti sei mai chiesto cosa ci sia ai confini dello spazio? Non lo so, altro spazio? E che mi dici di quando non c'è altro spazio? Non c'è più niente? Io sono un combattente del magma A noi interessa l'azione, non domande strampalate I frammenti del cosmo nel tuo guanto ti stanno dando alla testa Non mi danno alla testa Sto solo contemplando i misteri dell'universo Fai quello che sai fare meglio Essere il secondo guardiano più veloce di Gorm Il secondo più veloce? È il frammento Vediamo chi arriva per primo Ehi! Non vale! Oh, quindi hai deciso di venire Il frammento si trova dentro questo... E questo cosa sarebbe? Non ne ho idea Ma dobbiamo trovare un'entrata Non è qui E nemmeno qui E neanche qui Questo è proprio un mistero cosmico Proviamo da sopra È proprio fissato con i misteri cosmici Come facciamo a entrare? Reef? Dov'è andato? Altri misteri Non può essere andato di là O di là Oppure di qua Forte! Entro subito! Wow! Il cubo era piccolo Mentre adesso è enorme Questo è molto strano E... Porte sui muri! Eh? È un riff sul soffitto Riff! Che ci fai a testa in giù? Eh? Cosa? Che ci fai tu a testa in giù? Io? Io sono qua giù Sono a testa in su O forse... Sono a testa non in su Sto cadendo! Calmati! Non stai cadendo! È vero? Come sei arrivato lassù? Io... Sono solo entrato da quella porta Eh? Sono uscito da un'altra parte È molto interessante Non è interessante È preoccupante Il frammento è di là Proviamo le altre porte Questa sembra la direzione giusta Non c'è niente di giusto In questo posto Il guanto indica ancora di là Riproviamoci Non era la porta giusta Forse dobbiamo provare ad andare nella direzione opposta Eh? No! Aaron, rallenta Mi gira la testa Questa è la missione più cosmica di sempre Dobbiamo risolvere il puzzle Per trovare il frammento Vediamo un po' Dobbiamo trovare il diagramma del continuum Spazio-temporale Di questa labirintificazione cubica È una parola vera? Aaron Il libro è al contrario Cosmico, vero? Seguimi! Vedrai Qui riusciremo a trovare il frammento Non adesso, mostro sibilante Abbiamo da fare Aaron, dobbiamo andarcene Siamo stati lì Là e ora siamo qua L'unica conclusione logica è... Che è ora di chiamare un gormita Gormiti Potenza degli elementi Energia Del magma Combatti Vulcan! Magma al massimo Ehi, amici Che sta succedendo? Bene, bene Ora ci divertiamo Ho combattuto in molti posti strani Ma questo è il più strano di tutti È il potere del frammento del cosmo Piega su se stessi diversi spazi dimensionali E forma così un vortice gravitazionale Non ho capito niente di quello che hai detto Ma chi lo dici? Questo invece l'ho capito Magma Sfera Crono Chaos Attenti! Riff, dietro di te L'attacco di Saskia L'ha congelato il portale Sono bloccato Riff, rimani concentrato Non riesco a concentrarmi su niente E pesta del caos! Aaron, devi trovare il frammento E tirarmi subito fuori da qui Indica di nuovo da quella parte Tieni duro, Riff Ed eccolo Non qua Non capisco Il frammento dovrebbe essere proprio qui Sono un fallimento cosmico Mi arrendo Non puoi arrenderti Vulcan ha bisogno di noi Devo controattaccare Abbiamo attraversato tutte le porte Ma il guanto punta sempre nella stessa direzione Tutto questo non ha senso Ho capito Non serve risolvere il puzzle Se non c'è alcun puzzle Che vuoi dire? Aaron, stavolta la porta devi crearla tu Fai come ti dico Abbiamo poco tempo Ehi, bruttissimo Stai lontano dal mio magma amico Crono caos Riff, avevi ragione Il frammento era dentro il muro Vallo a prendere Non avrò risolto il mistero cosmico Ma sono sempre il più veloce di Gorm Dietro di te Ora facciamo i conti Sei pronto, Riff? Prontissimo Tempesta di magma Ce ne hai messo di tempo Ma alla fine ce l'hai fatta Grazie a Riff Visto? Te l'ho detto che non servivano a niente Tutti quei ragionamenti cosmici Ti sbagli Sei stato super cosmico Non serve risolvere il puzzle Se non c'è alcun puzzle È stato fantastico E ora abbiamo un nuovo mistero Secondo te da che parte è l'uscita? Cosmico! Pronti a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili Chi difenderà The land is back The magic is back Gormiti 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 Gormiti